Se dovessi raccontare i posteri di un mondiale italiano, racconterei sicuramente di Spagna 82, di un trionfo nato fra le polemiche e finito nell'unità più completa, di un trionfo assolutamente italiano. Racconterei di quella squadra di Capitain Zoff e Citi Bearzot, due friulani che hanno tenuto insieme il gruppo e l'hanno plasmato. Racconterei della marcatura di Gentile su Maradona e di come la ruvidità e l'aggressività possa diventare eleganza. Racconterei del bell'Antonio Cabrini a sfrecciare sulla sinistra, del libero galantuomo Scirea e del marcatore Collovati. Racconterei indubbiamente dello spirito di sacrificio di Lele O'Reali diventato addirittura canzone manifesto. Racconterei dell'urlo di Tardelli, uno tsunami vocale che ha personificato l'eruzione di sentimento di tutto il paese. Racconterei dei cross di Bruno Conti, della generosità di Graziani, dell'espressione stralunata di Spillo Altobelli dopo aver messo in porta il pallone definitivo, quello del non ci prendono più, detto dal presidente Pertini a scatenare l'emozione di tutto il suo paese. Racconterei inevitabilmente di Pablito Rossi, della sua tripletta al Brasile nella partita che più di tutto e più ancora della finale con la Germania Ovest sintetizza quel mondiale. Dei tre gol di un uomo, di un italiano inferiore tecnicamente rispetto ai rivali ma che scappa e scappa in modo irraggiungibile anche per campioni assoluti come Falcao, come Socrates e come gli altri. Racconterei di un mondiale che è stato l'esempio di come gli italiani vincono, con cuore, con resilienza, anche con riscatto rispetto alle previsioni e racconterei un qualcosa che ci unirebbe tanto, specialmente in un tempo come quello di oggi.